Ciao a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovo video di TAPGAME però indirettamente è anche un video di Clash Royale perché come avrete letto dal titolo se clicchi vinci e in palio ci sono anche circa 7000 gemme di Clash Royale oggi vi spiegherò come fare in pratica sono stato contattato da questa applicazione TAPGAME quindi è una sponsorizzazione all'app già conoscevo l'app anche se è stata creata da poco tempo e in pratica ti sfidi con gli altri giocatori e chi clicca più volte sui puntini che dopo vi farò vedere potrà vincere dei premi ci sono prodotti giornalieri e prodotti settimanali in questo caso se andiamo su prodotto settimanale abbiamo un buono Google Play da 70 euro quindi chi vince il primo posto vincerà 70 euro che potrà spendere su qualunque gioco o su Google Play come ad esempio li potete spendere su Clash Royale e 70 euro equivalgono più o meno a circa 7000 gemme quindi niente male ragazzi 7000 gemme gratis da poter vincere quindi vi dico fin da subito che TAPGAME è un'app gratuita e in pratica ogni giorno avrete 3 partite da poter fare gratuitamente una volta scadute le 3 partite potete andare nello shop e acquistare le partite se volete non siete obbligati ovviamente perché è un gioco gratuito ad esempio il pacchetto 5 partite costa 1,90 euro il pacchetto 10 partite costa 2,90 euro oppure ci sono anche i secondi in più perché ovviamente va a tempo in base ai puntini su cui cliccate 10 secondi in più 90 centesimi 15 secondi in più 1,90 euro che fanno davvero comodo però ovviamente ogni giorno se cliccate sul link potete ottenere 15 secondi nella prossima partita ad esempio io ora clicco qui sopra e mi daranno 15 secondi gratis questa cosa si può fare ovviamente ogni giorno poi ragazzi qui abbiamo la classifica come volete vedere il primo in questa stagione diciamo in questa settimana è SPEC3YT che ha fatto 129 tapp che sono tantissimi io sono abbastanza scarso e ora allora prima ci facciamo una partita in allenamento perché ovviamente c'è anche l'allenamento no no ho già iniziato allora attenzione allora così ovviamente io devo anche parlare quindi non mi posso concentrare al massimo e mi distrago infatti ora sto parlando quindi non sono al massimo della concentrazione allora ho fatto 63 tapp non è tantissimo ma neanche poco sono andata abbastanza bene comunque mi sono distratto un poco e non ci ho giocato tantissimo a questo gioco però ovviamente più vi allenate più sarete forti poi ovviamente anche se vi prendete i tempi extra andrete ancora meglio quindi allora io mi faccio queste tre partite e vediamo come andiamo ovviamente non è che ogni settimana avrete il buono troverete anche altri premi come ad esempio qualche settimana fa c'era la tastiera il kit tastiera mouse eccetera quindi ogni settimana ci sono una varietà di premi comunque convenienti allora ora qui come potete vedere abbiamo un bonus di 15 secondi per la prossima partita abbiamo ovviamente tre giorni perché tra tre giorni quattro ore e 43 minuti scadrà questo premio e ce ne sarà un altro numero di partecipanti 134 quindi direi che possiamo farci le nostre belle tre partite e possiamo anche iniziare dovrete avere ovviamente delle tecniche io vi consiglio di appoggiare il telefono su una parte stabile e fare con le due dita ovviamente io ora ci provo ok 3 2 1 io non parlo allora 96 tap e sono arrivato quattordicesimo quindi 15 secondi extra mi hanno aiutato un botto quattordicesimo per aver giocato davvero pochissimo a questo gioco sono davvero ottimi quindi ora ritorno in home e se andiamo nella nostra bella classifica possiamo vedere che siamo quattordicesimi con 96 tap eccoci qui Kazusan quattordicesimi e ora riprovo con le altre partite però ovviamente non avrò i 15 secondi extra però posso cliccare come dovete vedere clicca domani per ottenere ancora altri 15 secondi quindi se domani riclicco sul link avrò altri 15 secondi alla fine il link porta alla loro pagina facebook ok 3 2 1 andiamo e infatti sono arrivato vabbè quattordicesimo perché il tempo di prima ho fatto 63 tap e mi sono rimasta una partita che mi farò magari dopo più con calma magari sul bagno che lì ci concentriamo e niente ragazzoli spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione su fatemi sapere qui sotto nei commenti se proverete l'applicazione io vi consiglio anche di allenarvi appunto nell'allenamento che lì davvero vi esercitare vi fate un bordello di partite che comunque è divertente al giorno e poi quando siete pronti giocate diciamo in competitive mi sono piazzato quattordicesimo per gli inizi è abbastanza bene quindi magari fra qualche settimana posso puntare a vincere qualcosa se mi allenerò ogni giorno vi invito a scaricare l'applicazione mi raccomando basta che scrivete su playstore o tap game oppure lo trovate qua sotto in descrizione e fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti quando l'avrete scaricata a che posto vi siete piazzati se vi va quando scaricate l'app magari votate anche l'applicazione dandogli qualche stella o almeno le stelle che si merita secondo voi e niente ragazzoli qui da CosaSanne è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao